La fiera della frecagnola esisteva già intorno all'anno 1000, durante il feudalesimo era conosciuta con il nome di Mercato e poi Fiera di Santa Lucia e si teneva il 13 dicembre. Fu sempre valore di scambio e di rendita tra i vari baroni e duchi dell'epoca che traevano da essa un irrinunciabile introito. Era mercato di merci, vettovaglie di ogni genere, di offerte e richieste di servigi e fiera di bestiame. Nel corso dei secoli la fiera fu spostata in diverse date. Si suppone che a causa di queste date ambigue le venne dato l'appellativo di frecagnola dai visitatori giunti inutilmente dopo settimane di viaggio dalle lontane province, ignari dei continui cambiamenti di data. Il linguista catanese Salvatore Battaglia, nel suo dizionario italiano, attribuisce a frecagnola il significato di piccolo mercato. La fiera è un appuntamento di importanza più che regionale. Vi arriva gente dalla Campania, dal Lazio, Molise, dalla Basilicata, dalle Puglie e dalla Calabria, fin dai lontani luoghi dove provengono espositori, commercianti, allevatori e compratori. Corre voce che questa fiera è il non plus ultra della mangiatoria, che dura dal mercoledì alla domenica notte. La carne di capra bollita, i fusilli al sugo di castrato, il caso requaglio, uniti a specialità di altri piatti, nonché salami e formaggi locali, sono piatti ricercatissimi e vengono richiesti e mangiati avidamente e spesso bissati anche da chi si rifiutava di assaggiarli. L'atmosfera nelle baracche di frasche di castagno dove si consumano queste specialità è splendida. Complice l'ottimo vino tuosto locale, si è trascinati in una spontanea allegria che coinvolge grandi e piccoli in un alternarsi di manifestazioni cabarettistiche con canti e balli improvvisati, i quali continuano poi per le vie del paese, accompagnati da flauti, organetti, chitarre, zampogne e che terminano all'alba nella bellissima piazza dove i più capaci si esibiscono in antichi canti cilentani, a volte improvvisati con sorprendente musicalità. Grazie a tutti! La fiera si muove ormai speditamente verso direttive diverse e convergenti al tempo stesso, una di carattere zootecnico per valorizzare la capra e il valore delle sue carni, una di carattere dietologico per ribadire la genuinità dell'offerta enogastronomica in pieno stile mediterraneo, una di tipo storico umanistico per riaffermare l'orgoglio delle proprie radici ed infine una di tipo sociale attraverso la quale stimolare attività produttive e rendere la fiera stessa promoter di iniziative associative capaci di sostenere una nuova imprenditorialità giovanile.